siamo orti e big data che tempo fa riflessioni sul clima con il supporto di dati dell'osservatorio meteorologico di ateneo e non solo benvenuti come sapete tutti siamo in questo progetto dell'università di genova che organizza delle tantissime cose che hanno come tema e finalità anche lo sviluppo di competenze digitali degli studenti e questo gruppo di lavoro sta cercando di mettere insieme e proporre le varie iniziative di ricerca, di formazione, iniziative per le scuole noi siamo in questo blocco qua, iniziative per le scuole, le certificazioni per gli insegnanti e una parte di laboratorio dove raccogliamo tutto quello che facciamo e infatti voi sapete perché entrate sempre in questo nostro mondo ogni iniziativa che facciamo dall'anno scorso guardate quante, la più nuova guardate qua a sinistra, la workshop per gli insegnanti piano lauree scientifiche, qua dentro a breve potrete trovare tutti i vari interventi che sono stati fatti la settimana scorsa, poi vedrete c'è anche sul sito il programma, c'era anche Laura di Alenzano che ha presentato, comunque invece noi qua siamo dalla botanica e big data e vi invito brevissimo a guardare qua perché abbiamo veramente un posto che sta diventando molto molto ricco, avete sulla sinistra tutte le risorse, invece vi invito a guardare qua sulla destra perché abbiamo, a parte le interviste che abbiamo fatto ai primi che hanno iniziato lavorare quindi l'istituto comprensivo di Alenzano e abbiamo messo anche l'intervista, è stata pubblicata su Unige Life che è il magazine di Ateneo e adesso stiamo mettendo in calendario interviste a tutti, ma abbiamo quello che si diceva prima, i primi risultati della dashboard botanica dove in questo momento ci sono perché li abbiamo fatti per dicembre i dati di 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 Arenzano però vedete dai dati importati, rilevazione delle specie trattate, andiamo qua sulla temperatura che è quello che ci dà il là per questo incontro di oggi, i dati che sono stati rilevati dai bimbi di Arenzano, qua vi lascio poi leggere questi grafici con le indicazioni anche dell'incontro che è stato fatto con Giovanna Guerrini, ma quello che ci ha colpito tutti è che ci sono 18 gradi di media di temperatura fra ottobre e gennaio e questo ci ha dato l'idea di iniziare, di interpellare chi poteva parlare in maniera consapevole di questo che stiamo parlando. Per infilare, per così dire, passatemi questa parola, i dati dentro, far sì che i dati entrino dentro questa dashboard e quindi ci siano non soltanto i dati della scuola di Arenzano perché poi qua c'è la possibilità da qualche parte di 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 selezionare il nome dell'istituto e in questo momento abbiamo l'Istituto di Arenzano che ci siano tutti e poter vedere. A questo fine vi invito a scorrere il menu dell'ambiente, qua ci sono tutti i video degli incontri, adesso metteremo anche il video dell'incontro di oggi e qua vedete schede cartacele, moduli online, andando su moduli online voi potete incollare, usare insomma questi form che presentano tutti i dati che Enrico Rocottiello ci ha dato come importanti per monitorare un orto, non sono campi tutti obbligatori perché non è detto che tutte le volte sia possibile andare a monitorare tutto, per cui appunto l'invito alle colleghe che hanno detto che hanno iniziato già a monitorare le cose, l'ambiente anche senza magari avere già le piantine che nascono, però diciamo che potete potete iniziare a mettere i dati e man mano che i dati ci saranno andremo ad implementare questa dashboard. Anche Samuele Macciò che ha la sua dashboard creata dal sistema che ha utilizzato, alcuni dati li potrebbe portare qua perché sarà interessante confrontarli anche con le altre scuole. E quindi partendo da questo dato, tolgo la condivisione del mio scherbo, ora qua non riesco più a trovare le slide, eccole qua, perché ci facciamo condurre da Marco Capello, del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, a riflettere su questo caldo che c'è, causato dall'effetto Serra, ma che in modo un po' così provocatorio ci dice che non è poi così da demonizzare l'altra faccia della medaglia. Quindi tolgo la mia presentazione, tolgo la condivisione dello schermo e do la parola a Marco. Ciao a tutti, buonasera. Allora, cerchiamo di prendere la presentazione. Eccola qua. Allora, mi presento, io mi chiamo Marco Capello, sono un docente del DISTAM, quindi sono un collega di Enrica e sono un collega di Angela dal punto di vista dell'università e mi occupo, sono un geologo, mi occupo di oceanografia fisica e di meteorologia. Angela mi ha chiesto di chiacchierare un po' con voi per cercare di capire che cosa stesse accadendo in questo periodo. Io avevo detto a loro che anch'io mi sono accorto che sotto casa ho un albero, un albero, un cespuglio di kumquat, credo che si chiamino così, che ha fatto i frutti due volte quest'anno. Anche Enrica mi ha cercato di spiegare, a me che sono un geologo e che le cose organiche le mangio non le coltivo direttamente, uno dei motivi, i vari motivi per cui questo potrebbe essere accaduto. Oggi cerchiamo di vedere un pochino di più quello che è accaduto, o meglio che sta accadendo quotidianamente dal punto di vista dell'effetto Serra. Vediamo se riusciamo dell'effetto Serra, quindi la prendo un po' la lontana. Mi scuso con quelli che sono assolutamente addentro a questo argomento, cercherò di non essere troppo pesante, se lo sono fatemi un cenno così poi accelero un pochino ed evitiamo di addormentarci tutti su questa mia presentazione. Allora, fondamentalmente dobbiamo innanzitutto capire e che cosa sia l'effetto Serra e se sia proprio l'effetto Serra la causa di tutto ciò. A me piace spesso quando si deve parlare di effetto Serra, microplastica o negli altri accidenti che ci stanno accadendo in questo periodo della nostra vita, mi piace fare un po' la voce fuori dal coro perché io voglio fare da avvocato di questi fenomeni che ci coinvolgono quotidianamente e quindi cerchiamo di capire un attimo che cosa accade. Una delle prime slide che faccio vedere ai miei ragazzi o comunque faccio vedere a tutti quelli a cui faccio delle presentazioni, è una slide abbastanza semplice che prende tre termini che potrebbero avere uno stesso significato e che invece se analizzati un pochino più nel dettaglio hanno delle sfaccettature e delle sfumature che sono estremamente importanti. La definizione di guardare vuol dire dirigere gli occhi, fissare lo sguardo su un qualche oggetto e tutto ciò non include necessariamente la volontà di guardare quell'oggetto o di andare avanti oltre lo sguardo eccetera. Quindi guardare è una cosa quasi casuale. L'altro termine è che guardare e vedere a volte vengono utilizzati quasi come sinonimi. Vedere è un passo successivo. Perché? Perché io guardo qualcosa e la vedo quella cosa. Perciò c'è un'intenzionalità nel gesto che sto compiendo e il vedere necessariamente è un passo successivo. Perché se ci pensate dite ho guardato dappertutto ma non ho visto niente. Difficilmente dite ho visto dappertutto ma non ho guardato niente. È proprio anche cacofonico mentre lo diciamo. Questi erano i due termini che un mio vecchio professore di Geochimica utilizzava quando ci insegna alla prima lezione del suo corso. Io ho voluto aggiungere un terzo termine perché i corsi che faccio io sono abbastanza applicativi. Per cui io chiedo ai ragazzi quando escono ad esempio in mare con me di non fermarsi al mero calo la sonda in mare, leggo i numeri e basta. Ma calo la sonda in mare, leggo i numeri e voglio capire che cosa sta accadendo. O almeno ci provo. Quindi il passo successivo dopo guardare e vedere è osservare. Osservare vuol dire proprio cercare di capire che cosa stia accadendo e se è possibile anticiparlo o se è possibile cercare di mettere un rimedio a questo. Perché ho messo questi tre termini che sono abbastanza simili o che a volte vengono utilizzati secondo me in maniera erronea come sinonimi. Perché noi dobbiamo osservare quello che sta accadendo per capire quanto sia il peso dell'effetto serra su quello che ci sta accadendo, quanto sia la colpa dell'effetto serra. Io te lo sto parlando da avvocato del diavolo. Quindi quanto sia la colpa dell'effetto serra in quello che sta accadendo. Motivo per cui questi tre termini mi permettono di arrivare a osservare e quindi noi cercheremo di osservare quello che accade sul pianeta per capire quale potrebbe essere il nostro futuro, ad esempio. Teniamo conto di una cosa. Questa qui è un'informazione fondamentale. Tutto quello che accade sul nostro pianeta è colpa del Sole. Tutto direttamente o indirettamente è tutta colpa sua. Colpa o merito? Non lo so. Dipende un po' dai punti di vista. Però tutto quello che accade è causato direttamente o indirettamente dal Sole. E tramite cosa noi conosciamo, abbiamo questa informazione? Tranne un parametro fisico abbastanza, ne abbia sentito parlare tutti, della costante solare. E' quella quantità di calorie che arrivano ogni minuto su ogni centimetro al quadro del nostro pianeta. Se la Terra fosse un disco, come un tempo pensavamo che fosse, arriverebbero due calorie. Però poi sappiamo che è sferica, quindi dobbiamo aumentare la superficie per cui riduciamo il numero delle calorie. Poi c'è un altro fenomeno che si chiama albedo, che è la riflessione della luce e così via. Perciò diciamo che la quantità di calorie che arrivano sul pianeta sono decisamente minori. Però sono comunque veramente una quantità importante. Perché si chiama costante solare? Lo vedete qua dal grafico. Siamo passati dal 1600 al 2000 con un aumento del 2 per 1000, che è una cosa veramente irrisoria. Si va tra il 1364 watt al metro quadro al 1368. E' un valore veramente costante. Il motivo per cui questo valore ci dà un'informazione su quello che è la quantità di energia che arriva sul pianeta. abbiamo parlato dell'albedo. L'albedo è un fenomeno che colpisce molto quello che voi state facendo. Perché le culture verdi hanno un forte potere di albedo. Così come il ghiaccio, ma l'erba fresca, l'erba sulle appena piovuto o colture fresche, come dicevo, colture fresche, scusatemi, hanno un forte potere di albedo. Per cui una parte della radiazione solare viene rimbalzata. Una parte viene assorbita, una parte viene rimbalzata. Ora cerchiamo di vedere un attimo quant'è la parte che viene assorbita, quant'è la parte che viene rimbalzata, perché succede qualche cosa. Qui avete una tabella, un esempio di quello che è... Ti chiedo una cosa io. L'albedo è quanto riflette la Terra? Quanto le singole parti della Terra riflettono della radiazione solare che arriva sul pianeta. Sì. E la riflettono? Sì, vabbè, ok, rimbalza, come dire. Rimbalza. Poi vediamo dove rimbalza e come rimbalza, però. Ok. Diciamo che in linea di principio rimbalza. Voi vedete alcune superfici a cui è stato assegnato un albedo. L'erba, ad esempio, ha un potere di albedo 0,26 che è molto alto. Certo, la neve e il ghiaccio sono quelli che hanno un valore di albedo più alto in assoluto. C'è neve fresca, c'è neve vecchia, invece, beh, diminuisce. Il ghiaccio sembra quasi a poco di più dell'erba o i terreni agricoli 0,25. Sono valori importanti. E, se vi permettete un modo di dire, tutto fa. Nel senso che tutto quello che viene rimbalzato finisce da qualche altra parte. È questa qualche altra parte che a noi interessa. E qui vedete sul pianeta le zone che hanno una maggiore albedine, albedo o albedine che dir si voglia, sono ovviamente i poli, ma il polo nord dove c'è la neve, e la vedete che è rosso, quindi ha un potere 0,4, mentre le zone, quelle più verdi, hanno un potere leggermente più basso e si scende man mano che si arriva a situazioni in cui l'inclinazione della radiazione solare è particolare, per cui più i raggi sono inclinati, più facile è che la radiazione venga rimbalzata. Ma anche il deserto rimbalza? Mica tanto, il deserto è questo qua, il deserto del Sahara, lo vedi? Sahara e Arabia è bello rosso, quindi rimbalza nel senso videoriflesso sì. È poco, è meno. No, 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 è 0,4, vuol dire che l'albedo è forte, in questo senso rimbalza sì. Questo qui è un grafico giusto perché c'è una legge della fisica che dice che più la temperatura sulla superficie di una stella o di un corpo caldo, più la temperatura è alta, più corta è la lunghezza d'onda. Perché è importante questa legge fisica? Perché la nostra atmosfera, che è formata da tanti strati, questo lo sapete, le varie sfere, troposfera, stratosfera, ionosfera, eccetera, ha la caratteristica di essere più o meno trasparente alla radiazione del Sole, perché è una radiazione corta. Tenete conto che tutti i corpi emettono una radiazione elettromagnetica legata al calore. Ovviamente il Sole, che qui vedete, ha una temperatura superficiale di 5500 gradi, ha una lunghezza d'onda relativamente breve, sono 500 nanometri, ma io, Marco Capello, che ha una temperatura di 37 gradi, ho un'emissione di onde elettromagnetiche legate alla mia temperatura molto più lunga. Stesso discorso, ce l'ha il nostro pianeta Terra, che pur essendo un corpo relativamente freddo, emette una lunghezza d'onda tipica della sua temperatura. Ovviamente noi siamo molto più freddi del Sole, per cui non siamo visibili. Se fossimo un omino in piedi su Nettuno, vedremo il Sole, non vedremo la Terra. Perché? Perché la Terra ha una lunghezza d'onda talmente più lunga del Sole, che la caratterizza con una temperatura decisamente più bassa. Se andiamo avanti, ecco, questo è il discorso che stavamo facendo adesso. E cioè, il picco più alto è il picco della radiazione del Sole, 6000 gradi Kelvin, una lunghezza donda di circa 500 nanometri o mezzo micron. Superficie del pianeta Terra, 288 Kelvin, 10 micron. C'è un fattore 20, che è tantissimo. Questo cosa fa? Fa sì che il Sole sia visibile perché è luminoso, la Terra invece non è visibile. Ricordatevi questo numero, 288, perché poi ritornerà e ci farà capire qualche cosa di più. Sapete tutti come è fatta la radiazione solare. La radiazione solare ha al suo interno tantissime singole radiazioni. Si va da quelle con lunghezza d'onda più breve, estremamente energetiche, i raggi X, i raggi gamma, fino a quelle estremamente lunghe, ma con un'energia che ha veramente bassa, le onde radio, che hanno lunghezze d'onda di chilometri. In mezzo c'è il visibile, che è quello che ci permette di guardarci, che è un pezzettino esageratamente breve, piccolo, perché va dai 400 agli 800 nanometri, su lunghezze d'onda che superano al chilometro. Vuol dire una frazione infinitesima. Poi un pezzettino dell'ultravioletto da noi arriva, un pezzettino dell'infrarosso arriva, fortunatamente tutte le altre vengono rimbalzate dalle parti più alte dell'atmosfera. I raggi gamma e i raggi X vengono rimbalzati dalla magnetosfera. Se no io vedrei Angela che cammina per strada, vedrei il suo scheletrino che cammina, se la radiazione X la colpisse. A parte che non ci saremmo sul pianeta se la radiazione colpisse il pianeta, perché è estremamente mortale. Ma al suo discorso le onde radio rimbalzano sugli strati alti dell'atmosfera, però sappiamo che gli ultravioletti, che sono quelli che ci abbronzano per intenderci, vengono fermati dall'ozonosfera, fortunatamente perché gli ultravioletti sono cancerogeni e anche gli infrarossi, gli infrarossi sono quelli in questo caso a destra della radiazione luminosa, sono quelli che hanno un'energia abbastanza importante per noi e una parte di questi passa attraverso l'atmosfera, fortunatamente. Quindi abbiamo un altro tassellino, Sole, colpa sua, una parte della radiazione solare arriva sul pianeta. Andiamo avanti. Qui vedete com'è quello che viene chiamato il budget energetico della Terra. Abbiamo appena detto che una buona parte della radiazione del Sole passa e raggiunge il pianeta. Purtroppo però non lo scalda il pianeta, o meglio, scalda le rocce che a loro volta riemettono la radiazione che hanno accumulato, che viene rimbalzata verso l'atmosfera esterna e incontrano quelle che qui sono le nuvolette che hanno disegnato. Che cosa accade? Accade questo, cioè mentre la radiazione solare passa senza problemi le nuvole e arriva sulla Terra, la radiazione che mette il Sole, che vi ricordate ha una lunghezza, scusate, che mette la Terra, che vi ricordate ha una lunghezza d'onda un po' più lunga, viene intercettata dalle nuvole. Quindi le nuvole si scaldano e a loro volta la riemettono di nuovo verso il pianeta. Che di nuovo si scalda, a sua volta riemette di nuovo verso le nuvole e così via. Quindi la radiazione che ci permette di sopravvivere sul nostro pianeta è quella che viene emessa dalla Terra, non è quella che viene emessa dal Sole direttamente, ma in questo caso indirettamente. Cioè il Sole scalda il pianeta, non scalda l'atmosfera dove viviamo, ma scalda il pianeta. Il pianeta riemette a sua volta con una lunghezza d'onda differente, quindi meno energetica, che viene intercettata dalle nuvole e le nuvole a loro volta riscaricano, una parte verso l'esterno, va bene, ma una parte importante verso il pianeta e in questo modo scaldano l'atmosfera, dando origine a quello che viene chiamato Greenhouse Gases, cioè Greenhouse Effect. Non ti si sente perché il microfono è spento, Angelo? Allora, una volta che abbiamo capito che cos'è che fa aumentare la temperatura da noi, da noi nel senso sul pianeta, cerchiamo di capire che cosa succedeva prima. Cioè, questo è sempre una slide dove c'è scritto un qualcosina di più sull'effetto Serra. Facciamo un passo indietro. Questo è un grafico famosissimo, dove si mette in correlazione la CO2, che è uno dei tanti gas Serra insieme al vaporacqueo, insieme al metano che viene emesso dalle macchine, insieme ad altri gas, quindi questa CO2 viene emessa in correlazione con la temperatura del pianeta. Qui hanno preso una carota di ghiaccio in Antartide, in prossimità del lago Vostok, e hanno analizzato i gas contenuti nelle bollicine presenti nel ghiaccio. Hanno visto come la quantità di CO2, vedete, ha un andamento che più o meno sembra una sinusoide, ambozzata, va bene, ma diciamo che diminuisce, poi aumenta, diminuisce, aumenta, diminuisce, aumenta e così via. La temperatura ha un movimento che è abbastanza simile. Se li sovrapponete, vedete che c'è una buona correlazione nell'andamento di questi due parametri. E di fatti c'è un dibattito a livello scientifico su chi fa aumentare cosa. Non si sa se sia la CO2 che fa aumentare la temperatura o se sia la temperatura che faccia aumentare la CO2, però diciamo che il nostro pianeta si è sempre, in un certo senso, sistemato da solo, perché se guardate la CO2 era 280 parti per milione, 400 mila anni fa circa, poi 350 mila anni fa è sceso a 180, poi è risalita a 300, poi di nuovo a 180 e così via. Temperatura uguale, temperatura 2 gradi, poi si scende a meno 8, poi si sale a 4, poi si scende a meno 8, poi si sale a 4 e così via. Questo, diciamo, le due cose sono andate di pari passo e ci sta perché più CO2 c'è nell'atmosfera, maggiore sarà la quantità di energia emessa dalla Terra che viene intercettata. quindi, vedete, qui c'è una correlazione che mi permette di dire che la mia CO2 si aumenta, diminuisce da sola. Vediamo qui nel recente. Allora, tutti quei dati che voi avete visto sono messi in questo grafico in un rapporto fra CO2 sull'asse X e la temperatura sull'asse Y. E vedete, ricadono tutti nell'ellisse tratteggiato fino ad arrivare quando? Fino a un bel momento quando i dati hanno preso la tangente e se ne sono andati fuori. E' questo il momento in cui abbiamo incominciato a preoccuparci. Giusto? Abbiamo, sì. Ci siamo preoccupati, diciamo così. Se andiamo avanti e andiamo a vedere un po' più nel dettaglio quello che è accaduto, vediamo che c'è negli ultimi 120-130 anni un aumento abbastanza incontrollato della CO2. E questo a che cosa è legato? Diciamo che è legato sicuramente ad una migliore condizione di vita delle persone. Sicuramente. Dal 1800 in poi, al di là che ci sono state le guerre, va bene, ma la CO2 che abbiamo messo nell'atmosfera, CO2 evaporato, perché non dimentichiamoci che c'è anche quello, sono costantemente aumentate. Andiamo avanti, vediamo dove siamo arrivati. 2015 intorno a 400, 2018 411, 2014, si anche aumentano di pochi ppm. Sappiate che siamo ben oltre già quel livello che avevamo visto nella slide dove c'era quell'andamento sinusoidale. è un valore oltre il quale il nostro pianeta non riesce più a ritornare a posto da solo. Vedete poi 2021-415, sempre 2021-419, gennaio dello scorso anno maggiore di 420 ppm. Sono valori davvero importanti, davvero grandi. Guardate come è movimentato, c'è una sorta di diminuzione, aumento, diminuzione. Queste sembrano più, sembra più una tendenza stagionale, non una tendenza di cerchiamo di mettere in mano il protocollo di Kyoto piuttosto che diminuiamo la CO2. mi permetterete poi qualche commento alla fine su questa cosa qua, ma sembra veramente che settembre-ottobre forse c'è meno la necessità di produrre CO2 perché non lo so, sarebbe da analizzare come come momento, perché comunque nel 2021, di nuovo a settembre-ottobre, la CO2 è diminuita. Ma sono dati, scusa Marco, questi sono dati di tutto il mondo o di un pezzettino? Allora, questi sono i dati che mi vengono dalle E-Way, dove c'è un osservatorio che misura la CO2 presente nell'atmosfera e che è meno influenzata da che se io mettessi un sensore in centro a Genova, per intenderci. Questo osservatorio misura realmente quella che è nell'atmosfera e circola nell'atmosfera e che non è però generata dal microclima che si crea in una città, per intenderci. Cioè è un posto, diciamo, nell'ottica di... È un posto pulito. È un posto pulito, un posto dove piantare piantina di controllo. Praticamente Monaloa è una grossa pianta di controllo dove ci sono anche telescopi, eccetera, sì. Ok. Va bene. Poi, se andiamo avanti, che cosa causa l'aumento della CO2? è quello che sanno tutti. Se fa caldo, si sciogliono i ghiacci. Se sciogliono i ghiacci, si alza al mare. Questo è vero, è un dato di fatto, non possiamo far finta di niente. Ci sono alcuni... Apro una piccola parentesi. Io non sono né con gli estremisti da una parte né con gli estremisti dall'altra. Io, proprio perché ho aggiunto la parola l'osservare, cerco di essere il meno influenzato possibile dai vari come si può dire personaggi diciamoli così che sono più da una parte che negano comunque la presenza dell'effetto Serra rispetto a quelli che vanno in giro con il cartello eliminiamo la CO2. Li prenderei, gli picchierei la testa una sull'altra per fargli capire che senza CO2 non possiamo vivere. Cioè, senza effetto Serra noi non possiamo vivere. E l'avete visto in quel grafico che saliva e scendeva. Cioè, se non c'è l'effetto Serra il nostro pianeta, quei 288 gradi Kelvin che vi ho fatto vedere prima, 288 gradi Kelvin vuol dire circa 15 gradi centigradi. Se non ci fosse l'effetto Serra a quei 288 sarebbero 250 circa. Vuol dire meno 18, meno 20 gradi come temperatura fissa. E quindi dire eliminiamo l'effetto Serra non riduciamo o cerchiamo di moderare ma eliminiamo vuol dire non è capito niente del pianeta su cui vivi. E quello a me fanno paura queste persone che stanno agli estremi perché in una fase in un momento di reale presenza di problemi se salta fuori uno che dice eliminiamo perché sono sicuro che se eliminiamo siamo tutti meglio c'è rischio che si trovi dietro come il pifferaio magico la scia di Topolini che gli va dietro perché sono convinti che lui sia colui che detiene le verità assolute e questo è davvero molto pericoloso ma andiamo avanti questo è di quanto si è alzato negli ultimi 25 anni il livello del mare a causa del riscaldamento globale 3 mm e 4 uno dice 3 mm e 4 non me ne accorgo neanche è veramente una sciocchezza ma se voi pensate a quanto è grossa la palla su cui viviamo e pensate a quanta acqua c'è 3 mm e 4 sono milioni di litri che sono caduti in mare a causa del riscaldamento globale ovviamente andiamo avanti ulteriormente questa è una bellissima scusate una bellissima immagine del nostro pianeta e per capire che cosa potrebbe succedere di qua al 2100 qualora ci fosse quell'aumento proporzionale che ha causato i 3 mm di regola 4 2020 lo vedete a sinistra 2100 lo vedete a destra andiamo a fare il bagno a Pavia perché il mare entra a Pavia e poi ci ritroviamo delle altre isole un pezzettino di Puglia probabilmente Ottena diventa un'isolenta così come il Gargano è sparito il Tiguglio no diciamo che l'abbiamo un po' arrotondato via abbiamo smussato un po' tutti gli angoli e questo potrebbe essere quello che ci ritroviamo tra 80 anni se questa cosa prosegue in questa maniera che paura cosa accade tra le altre cose allora voi sapete che il mare è un grosso contenitore dentro ahimè dentro cui ahimè buttiamo l'acqua lunghe da solo è in grado di assorbire la CO2 che cosa causa tutto ciò CO2 più H2O lo vedete lì acido carbonico gli oceani sono grossi e ne assorbono tanta CO2 se leggete questi numeri dal 1760 al 2021 gli oceani hanno assorbito 25 milioni di tonnellate al giorno di CO2 è una quantità impressionante e questo cosa ha causato un aumento o meglio un aumento dell'acidità una diminuzione del pH da 8.2 a 8.1 e voi dici ma dai cosa vuoi che sia da 0.1 è ridicolo non me ne accordo neanche se dovesse berla l'acqua fortunatamente noi che siamo organici perché il 90% non ce ne accorgiamo quelle parolacce che ho scritto lì l'isoclino ccd acd sono dei termini che mi dicono che cosa accade in mare e cioè in mare c'è un livello si chiama livello di compensazione dei carbonati al di sotto di quella profondità i carbonati vanno in soluzione cosa vuol dire? vuol dire che se io metto il guscetto di un animaletto a 4000 metri o oltre piano piano questo si rosicchia e si scioglie cosa vuol che sia e quello che dicevo prima tutto fa se io aumento l'acidità questo l'isoclino questo ccd salgono più verso la superficie quindi io vado a perdere della biodiversità perché? perché tutto ciò che è al di sotto della linea di compensazione dei carbonati e che ha un guscio di carbonato di calcio a causa della presenza dell'acido carbonico tende a sciogliersi e quindi perdo tutto ciò che è che ha delle conchiglie di carbonato di calcio e difatti sui fondali ci sono dei bellissimi fanghi aradiolari che sono tipici di animaletti che hanno un guscio di cilice o di silice che dir se voglia però questi animaletti e un guscio di carbonato di calcio sono il cibo di tanti altri animaletti un po' più grossi e così via fino ad arrivare a noi cristiani che ci maniamo tutto quanto quindi perdere una parte di quello che è alla base della della piramide alimentare dipende estremamente pericoloso perché vuol dire che viene a mancare per tutto ciò che sopra gli trema la base della piramide alimentare cosa possiamo fare allora per difenderci dall'effetto serra e qui arriva l'avvocato del diavolo io quando parlo con i bimbi cerco di non dirgli quello che devono fare anzi non gli dico quello che devono fare ma gli dico quello che potrebbe accadere se noi non facciamo qualcosa voi siete adulti lo sapete quando un bimbo gli dice non fare quello è il momento in cui lo fa quindi se un bimbo e ne ho visti veramente tanti soprattutto alle elementari se ai bimbi gli si dice stai attento perché se butti un pezzettino di plastica in mare questo ci resta e lo mangiano i pesci poi te lo ritrovi sul piatto tu forse ci pensa e non lo fa se gli dici non devi buttare la plastica in mare perché non si deve come girate la testa applicate la plastica in mare ma non perché siano delle teste dure perché la mia idea è che non si debbano obbligare a fare qualcosa ma i bimbi sono dei piccoli adulti che vanno aiutati a capire delle cose quindi cosa possiamo fare per difenderci l'effetto serra niente abbiamo visto che l'effetto serra è fondamentale per la sopravvivenza della nostra sopravvivenza sul pianeta senza l'effetto serra non ci scusatemi non ci saremmo sviluppati perché perché saremmo ancora vestiti con le pelli d'orso sulla schiena e andremo di grotta in grotta cercando di stare possibile al caldo poi io sono decisamente più adulto più grande di voi li ho visto in monitor quindi so che siete più giovani di me e mi ricordo che quando ero piccolo le macchine ma ne c'era una su mille che avesse l'aria condizionata la 500 aveva altrettuccia apribile adesso macchine con altrettuccia apribile non ce n'è neanche una se non le cabriolet ma quelle sono un'altra cosa hanno tutte l'aria condizionata e appena c'è un decimo di grado in più del sodio che sentiamo leggermente accaldati l'aria condizionata l'aria condizionata a stecca avete mai provato a mettere mi consiglio di non farlo una mano dove esce l'aria del condizionatore è bollente ovviamente perché se fa freddo da una parte deve essere estremamente caldo dall'altra questo cosa fa aumenta la temperatura delle città in cui ci sono le macchine che girano per forza questi microclimi fanno aumentare il clima sicuramente però vi faccio un'altra domanda quanti di voi sono disposti a soffrire il caldo in macchina a soffrire il caldo in casa a non avere più il frigorifero in casa a non avere il condizionatore tutte queste cose meravigliose hanno un effetto tra virgolette poche edificante sull'ambiente perché 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 abbiamo una una grossa componente che fa aumentare l'effetto serba poi ai miei tempi quando sono nato volevo dire io sono del 60 non ho paura a dirlo eravamo 4 miliardi sul pianeta l'incirca uno più uno meno tenete conto che aumentiamo di circa un miliardo ogni 12 13 14 anni per comunità facciamo 15 che viene più facile per i conti nel 2100 saremo 10 miliardi ora sti cristiani che nel 2100 saranno tutti presenti sul pianeta come li manteniamo come li facciamo andare avanti gli facciamo rinunciare di nuovo a tutto ciò che è che abbiamo non che è scusatemi che abbiamo raggiunto come benessere sia lavorativo sia legato alla nostra vita io non lo so se sia possibile di sicuro con l'effetto serba ci dobbiamo convivere e ahimè non sarà facile perché diventiamo sempre di più quindi dobbiamo in un certo senso imparare a apprendere se è possibile se riusciamo a vederlo tutto ciò che di buono c'è dall'effetto serra certo l'effetto serra estremo non ci non ci aiuta perché perché ci fa patire il caldo molto di più però anche lì io abito a quarto mi ricordo che sempre quando ero piccolo e me perché sono stato piccolo c'erano delle giornate estive con un caldo boia io andavo a dormire sudavo come un depositato al sole a mezzogiorno di recente negli ultimi anni non mi è più successo io non ho il condizionatore in casa non ce l'ho mai avuto e non credo ce lo metterò però non ho più avuto così tanto caldo quindi se è vero che aumentano le temperature forse aumentano ma non ci sono più quei secondo me quei picchi esagerati che ci facevano stare tanto male durante l'estate è anche vero che però magari di giorno sudavamo come dei matti e di sera avevamo un po' di refrigerio adesso questo divario è un po' meno marcato però abbiamo da dire che durante il giorno soffriamo molto il caldo quindi quello che io vi posso dire è che arriviamo andiamo avanti vedete 2111 miliardi di persone non sarà facile abbassare perché aumenta sempre di più il numero della popolazione cioè tenete presente che il nostro stile di vita è tale per cui si è allungata l'aspettativa di vita al tempo dei romani il sesso femminile quando arrivava a 30 anni erano vecchissime le donne e gli uomini duravano un pelo di più adesso diciamo le signore hanno un'aspettativa di vita che supera quasi gli 80 anni e i maschietti arrivano a 75 77 anni ci sono 50 anni di più in mezzo e questo ha fatto sì che passassimo da le poche migliaia o poche centinaia di migliaia ai tempi dei romani agli 8 miliardi che siamo arrivati proprio non tanti mesi fa e che comunque scaldano su questo pianeta quindi l'effetto Serra non lo elimineremo mai possiamo fare tante cose nel nostro piccolo possiamo fare tante cose che localmente ci permettono di stare meglio ma mentre io magari spengo il condizionatore ci sono altri 5 mila persone che ahimè si devono scaldare e non possono farlo utilizzando materiale green piuttosto che non inquinante allora usano quello che possono e sparano nell'atmosfera tutte le schifezze impossibili immaginabili è una coperta corta la tiriamo da una parte e si allunga dall'altra non abbiamo la possibilità di eliminarlo c'è gente che c'è gente scienziati che pensano di utilizzare la CO2 che è nell'atmosfera e renderla solida per stoccarla nelle miniere piuttosto che riempire i pozzi petroliferi dove adesso mettono l'acqua del mare di metterci la CO2 ci sono tanti studi ma comunque col ritmo con cui crescono le persone sul pianeta non avremo mai la possibilità di ridurla la CO2 dobbiamo imparare a conviverci dovremo imparare a e poi l'adattamento comunque ci aiuterà perché perché impareremo a sopportare un po' di più il caldo e andremo avanti e così via quello che possiamo fare è non strapparci i capelli dalla testa e io sennò io sarei già pregato in partenza ma affrontare questo che è un falso cioè no un falso problema se lo dico i miei colleghi che mi sentono mi sparano cioè è un problema relativo non falso è un problema relativo a come vogliamo vedere quello che sta accadendo se io lo vedo come il demonio è un problema che non so come risolverlo se lo vedo invece come qualche cosa che necessariamente con cui necessariamente devo convivere lo vedo già in maniera meno meno brutta e di fatti chiudo con questa slide che mi piace moltissimo non dobbiamo demonizzare l'effetto serra perché come abbiamo visto all'inizio senza l'effetto serra noi saremmo qui a parlare dell'effetto serra so che è un gatto che si morde la coda ma così è grazie grazie davvero io credo che possiamo fare un attimo un giro prima che Enrica ci traduca tutto ciò in cosa succede alle piantine che sono state piantate però questo a mio parere si traduce in voi che avete più diretto contatto con gli studenti tutti noi come genitori forse e lo vediamo che dal 2007 quando siamo partiti uscito dalla parte operata gente diciamo la cosa è che infatti i nostri ragazzi già si educano che qualsiasi cosa si farà da oggi in poi bisognerà farsi la domanda ma quanta ora non so se lo dico bene però quanto CO2 produce questa cosa che sto facendo cioè qualsiasi cosa fai te lo chiedi e poi decidi quanto cosa fare però è uno stimolo interessante quello che ci fai che appunto è così evolveremo appunto le giraffe sono venute con il colo lungo eccetera ecco e però questi ragazzi hanno già questo stimolo cioè viene da più parti però con questi dati che ci hai dato per me ancora di più cioè sarà la domanda qualsiasi cosa fai ti muovi ma quanta CO2 sto producendo altri commenti così a caldo prima di dare la parola a Enrica se ci sono Daniela io volevo chiedere un dettaglio mi chiedo scusa però è una cosa che non sono uscita non sei Daniela Samuele no sono Samuele aspetta un momento Samuele che Daniela ha lasciato la mano scusa scusa me l'avevo a vista noi genovesi per tradizione siamo sempre stati molto risparmiosi sotto certi aspetti forse riprendere un po' perché sono io sono del 56 quindi batto il 60 e quindi direi che forse qualche vecchia abitudine potrebbe si potrebbe anche mantenere integrandola con qualche altra nuova che ci ha dato del benessere l'abitudine a riparare le cose per esempio e che era una una caratteristica del modo di vivere di quando noi eravamo bambini e che adesso i bambini non hanno assolutamente più e forse si può fare molto anche senza ritornare indietro quindi pensare di vivere peggio ma riacquisire alcune abitudini a riparare le cose a a non fare necessariamente tutto con l'energia elettrica dai insomma compensare un po' con pensarci per lo meno sono le risposte alla domanda ma quanta CO2 faccio tanta e allora l'alternativa aggiusto non butto eccetera Daniele Samuele Sì scusa Daniela per aver interrotta non me l'ha reso conto ma volevo chiedere la prima cosa è proprio un dettaglio però era una curiosità la prima immagine che avevamo visto sull'effetto serra c'era raffigurato le nuvole come fattore di rimbalzo diciamo della radiazione e poi abbiamo parlato di CO2 è chiaro che le nuvole ma vapore acqua e gas vario eccetera però volevo capire meglio questo passaggio nel senso se sono le nuvole a rimbalzare se in generale questo strato ovviamente di gas vario compreso la CO2 che prova sono tutte e due entrambi è un insieme di fatti si chiamano gas serra perché sono tanti tipi di gas che insieme iniziano come come cappello come ombrello alla radiazione che viene emessa dal nostro pianeta le più evidenti sono le nuvole ovviamente perché la CO2 non la vedi però la CO2 nell'aria c'è e funziona da gas serra perché tutto ciò che brucia genera CO2 tieni conto di questo quindi qualunque gas tu bruci genera CO2 se non genera CO2 quando eravamo giovani le prime marmite catalitiche producevano vaporacque eravamo così felici e adesso siamo del gatto producono ossigeno le marmitte o se no cosa che sarà abbastanza difficile quindi che producano CO2 o che producono vaporacque comunque ritorniamo da capo generiamo nuovo gas serra ok una considerazione personale sarà un po' così slegata stavo ancora cercando di ragionare su quello che ha detto e integrarlo io posso insomma da tanto che ovviamente questi temi ambientali li porto chiaramente a scuola perché credo che abbiano una grande importanza non sono forse completamente d'accordo sul fatto che il nostro ruolo sia irrilevante nel senso che dobbiamo semplicemente adattarci a quello che sta succedendo insomma questa deviazione forse che che ha mostrato secondo me non ho mai fatto ricerca scientifica e non sono del campo quindi quello che dico è solo frutto di curiosità insomma di informazione che mi è arrivata negli anni insomma però ho un po' l'impressione che siamo stati noi chiaramente anche causa di questa deviazione rispetto all'alzarsi al abbassarsi di questa eccezione in atmosfera che è fisiologica diciamo per il nostro pianeta e come diceva lei con bambini l'abbiamo sempre detto e ancora di recente è venuta una una volontaria del centro ambientale del del Beigua adesso non mi ricordo il nome preciso però insomma anche lei la prima cosa che ha detto è l'effetto serra ragazzi ci fa stare su questo pianeta cioè senza di quello sarebbe noi saremmo morti però insomma il fatto di questo di questo trend così anomalo cioè secondo me noi siamo i responsabili qualcosa forse possiamo fare cioè renderci semplicemente al fatto di dire ci adatteremo in qualche modo non so se sono completamente completamente d'accordo però da e dall'altro punto di vista sono consapevole che quando parliamo di queste cose che già parlarne secondo me fa bene poi ognuno svilupperà la propria coscienza farà i propri studi i propri approfondimenti magari però insomma parlarne con i bambini non è tanto secondo me per instaurare in loro dei cambiamenti nell'immediato serve tanto per sensibilizzarli sull'argomento perché sono convinto che poi singolarmente non si possa fare molto quando si dice spegni il condizionale abbassa di un grado sì forse complessivamente ma non sono quegli interventi dei singoli che possano andare secondo me a impattare sono le politiche che possono essere di governo politiche globali di accordo tra paesi tra nazioni tra quelle persone che effettivamente possono fare cambiare le cose l'impatto forse del singolo è quello più o meno ho l'impressione che sia quello meno importante rispetto alle grandi allevamenti intensivi oppure se si vuole ridurre le emissioni delle auto non è chiaramente il singolo che può dire non è la scelta del singolo che spende un po' di più per prendere un'auto più ecologica ma deve essere una politica più ampia che crea effettivamente un impatto quindi sostanzialmente quando inseguo ai bambini queste cose lo faccio nell'ottica che instauro in loro un seme non tanto demonizzarli se usano che ne so il condizionatore in casa ma sensibilizzarli a un tema perché poi in futuro magari saranno quelli che prenderanno determinate decisioni a livello che effettivamente abbiano un impatto sul pianeta non so se questo mi sono spiegato però assolutamente sì però io Samuele non non dico bovinamente dobbiamo prendere quello che arriva lungi da me dire una cosa del genere probabilmente allora mi sono spiegato male non sono riuscito a darvi l'idea di quello che penso io dico che nel nostro piccolo possiamo fare un sacco di cose tenendo però presente che chi magari è seduto vicino a me non lo fa io ti faccio un esempio abbastanza banale a me è capitato di andare in Cile che è un paese meraviglioso che è tutt'altro che terzo mondo anzi in molte cose sono decisamente più avanti di noi quanto meno come modo di ragionare ho visitato l'isola di Ciloe dove le case hanno il riscaldamento a legna c'era una cappa di fumo che era quasi impossibile respirare cioè io posso anche abbassare di anziché mettere la temperatura del condizionatore a 18 la tengo a 19 la tengo a 20 in maniera tale da consumare un po' meno quindi da buttare un po' meno calore nell'atmosfera però poi mi scontro con realtà di questo tipo sono esempi banali me ne rendo conto ma paesi come e lo dico senza fare torto a nessuno ma come l'India dove c'è un miliardo e 700 mila abitanti la Cina dove sono più di 2 miliardi e hanno zone rurali o zone con una tale densità città del Messico 25 milioni di abitanti cioè di che stiamo parlando a questi non gliene può fregare di meno della CO2 che c'è nell'atmosfera quindi quello che io dico è combattiamo a volte contro il mulino a vento cioè io sto attento a quello che faccio magari apro il finestrino della macchina anziché accendere il condizionatore e magari in casa sto con 19 gradi anziché arrivare a 22 andare in braga e corte sto a 19 e mi metto una felpa ma io sono vecchio io sono nato quando davvero quando ero bambino andavo in giro con le braga e corte giocavo per strada adesso non hai visto un bambino giocare per strada sono un po' cambiati i tempi quindi il mio dare degli input ai bimbi è perché mi piacerebbe che imparassero da soli quello che sarebbe meglio non fare e quello che sarebbe meglio invece fare questo è come dicevi tu dare degli input ai bimbi mettere quel semino che poi cresce che poi da grandi decidono la cica anziché buttarla per terra di spegnere la posacenda o ancora meglio non fumano è questo che intendevo dire lungi da me l'essere bovinamente e accettare bovinamente quello che arriva no no non ci penso neanche io voglio poter stare bene a casa mia quando a Genova c'è quella bella tramontana che c'è l'aria pulita hai voglia se sono contento però io ambito a quarto spesso guardo verso il mare e c'è una cappa di aria marrone legata alle navi che sono in porta che devono necessariamente tenere i motori accesi perché i generatori quantomeno quindi io la vedo ci sono tanti che non ci fanno neanche caso perché sono convinti che sia la normalità no non è la normalità la normalità è un'altra la normalità è l'aria pulita che ti sveglia al mattino e senti che ti fa piacere ma non devi per forza essere in Val di Longhi in Trentino per avere l'aria pulita sai basta essere a Genova con un minimo davvero con un minimo tramontana e ti ritrovi la Genova che ha l'aria che si respirava nel passato quindi io sono d'accordo con quello che dicevi però sapendo che non insomma non c'è una causa effetto immediato per tutto lo globo dei nostri comportamenti personali però magari questi bambini come diceva Samuele diventeranno politici illuminati chissà cosa riescono a fare che ne so anche lettori basta quello come? basta i lettori anche nel senso che lettori illuminati sì oppure oppure tutto è tanto state a sentire abbiamo ancora un quarto d'ora e io darei la parola a Enrica che ci legge queste cose insomma in termini di quanto abbiamo e ora uso il nostro termine il nostro linguaggio finora seminato con questo progetto e quindi vediamo qua eccoci mi sentite? sì certo allora io vi porterò via pochissimo tempo perché ormai siete cotti e quindi semplicemente questo parte da un'idea della chiacchierata che c'era stata tra Marco Capello che ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito Angela e sottoscritta con il pretesto di parlare delle temperature e chiacchierando giustamente Marco ha riferito di quello che succede a livello di clima e ha detto che non dobbiamo demonizzare e mi ha riferito una cosa che lui ha visto per rimanere nella terminologia di cui parlavamo prima ovvero mi ha detto ho visto i cunquatt che sotto casa mia hanno fruttificato due volte in un anno e io ho osservato che non è una cosa che suscita in me particolare sorpresa per le ragioni che vi racconto anche io parto semplice semplice e veloce da un'evidenza sappiamo tutti che per fare fotosintesi le piante oltre che acqua e sali minerali usano anidride carbonica quindi possiamo dire in qualche maniera passatemi il termine che l'anidride carbonica è il cibo delle piante ok e grazie a questo loro fanno tutto ciò che gli occorre e rilasciano ossigeno in atmosfera che per noi è molto importante perché senza l'effetto serra non saremmo sul pianeta ma senza l'ossigeno anche non saremmo sul pianeta quantomeno come ci troviamo attualmente che cosa succede quando aumenta l'anidride carbonica in atmosfera e non solo in atmosfera perché aumenta anche negli oceani le oceani di anidride carbonica sono un bel serbatoio più l'oro della crosta terrestre quindi ecco non perdiamo di vista questo aspetto succede che siccome per le piante è un cibo succede quello che succede a noi quando aumentiamo la quantità di quello che mangiamo non indefinitamente ma lo vediamo e questo avviene sia sott'acqua sia sulla crosta terrestre quindi la prima cosa che vediamo è che per le piante che hanno una buona sopportazione di questi livelli aumenta la biomassa quindi abbiamo delle piante più vigorose più grosse a volte anche proprio visibilmente apprezzabili questo perché aumenta l'attività fotosintetica della pianta quindi la pianta fa più fotosintesi fa più fotosintesi e aumenta la sua biomassa volume altezza eccetera e tra l'altro capta meglio l'azoto presente nel suolo e poi vedremo per quale motivo diminuisce un po' il consumo di acqua questo può sembrare una buona cosa in valore assoluto non è detto che sia un bene ci arriviamo perché tutto questo ce lo dice questa immagine ve la faccio semplice l'immagine in alto all'aumentare della nitride carbonica noi abbiamo svariate cose che succedono aumenta aumentano le temperature e l'abbiamo visto il perché aumenta la captazione da parte delle piante in generale in particolare a livello della foglia ci sono due cose una è che aumenta la biomassa e quindi le piante rendono di più fanno più fotosintesi sono iperattive sono anche obese passatemi il termine quindi sono ipernutrite diciamo e poi l'altro aspetto è che cambia la stagione vegetativa prima erano abituate a una certa temperatura a un certo ciclo di stagionalità a un certo punto queste temperature e questa stagionalità cambiano e le piante un po' si adeguano quelle che sono più competitive quantomeno e quindi ad esempio può capitare come accennava Marco che fruttifichino un effetto indiretto dell'aumento di CO2 ma comunque un effetto ed è visibile lo vediamo se è quello che possiamo fare con i nostri bimbi ovviamente sarebbe stato bello usare la macchina del tempo e fare l'esperimento che noi stiamo facendo adesso con le nostre classi anche solo 10-20 anni fa e confrontare le informazioni e vedere che cosa sarebbe successo rimaniamo nel qui e ora che mi sembra già sufficiente per fare delle riflessioni che cosa succede quindi alle piante adesso questa è piuttosto articolata ma per dirvi che i cambiamenti sulla pianta sono per arrivare a dei cambiamenti che noi apprezziamo a livello visibile quindi aumento della superficie della dimensione delle foglie aumento della biomassa complessiva sia quella mietibile diciamo sia quella delle radici insomma la pianta cresce tutta è una pianta ipernutrita ok ma aumenta anche ad esempio quanto fruttifica quanti fiori fa quanto è in grado di gestirsi questo surplus e quindi c'è un aspetto di crescita ma questo aspetto di crescita ha sotto un invisibile che è legato a una risposta fisiologica della pianta come vi dicevo la pianta fa più fotosintesi aumenta un po' quello che è l'uso efficiente del carbonio ok ma nello stesso tempo a un certo punto inizia a chiudere delle strutture che aiutano la mediazione con l'atmosfera che si chiamano stomi che fanno in modo che ci sia una mediazione un controllo mediato con quello che è lo scambio con l'atmosfera e quindi diciamo questo ha delle implicazioni delle implicazioni che cambiano tutta una serie di aspetti che vanno anche su quella che è la regolazione ormonale delle piante quindi anche l'anidride carbonica come ci potevamo immaginare anche l'aumento dell'anidride carbonica ha un effetto sulle piante a tutti i livelli da quello invisibile a quello che poi noi apprezziamo visivamente che cosa possiamo fare perché poi il punto è sempre quello diciamo che uno potrebbe dire vabbè ma allora se funziona così se le piante funzionano bene così piantiamo più piante diciamo che non si possono piantare indefinitamente piante per compensare come diceva prima anche Marco una situazione che in realtà a un certo punto da quella che era un andamento periodico alti e bassi come avete visto è diventato un qualche cosa che sta sempre più salendo quindi il segreto è sempre ridurre un po' le fonti oppure con tutte le considerazioni che si facevano l'aumento delle piante è un fattore di mitigazione se vogliamo come ce ne sono molti altri utile e importante ma non esaustivo poi ci sono tutta una serie di altre cose da tenere in considerazione e con questo poi mi fermo perché come dicevo il tempo è poco e la stanchezza comincia a farsi sentire per voi è anche un po' questo che c'è il fattore clima il fattore clima è legato alla CO2 perché aumenta la temperatura e a seconda delle condizioni in cui ci troviamo cambiano le condizioni climatiche generali quindi abbiamo un aumento della temperatura può variare l'umidità relativa vediamo che adesso abbiamo le ondate di calore abbiamo dei periodi di forte essiccità a cui prima non eravamo abituati quindi a oggi noi ci troviamo con una pianta che è in una condizione in cui viene fissata l'anidride carbonica e si ha una perdita di acqua per traspirazione dal suolo alla pianta in una situazione di futuro questo potrebbe molto cambiare anche in considerazione dell'umidità relativa perché l'umidità relativa può rendere in eccesso di CO2 la pianta anche molto più performante ma in condizioni di aridità la pianta ad esempio anche se la CO2 fosse tanta la pianta non avrebbe abbastanza nutrizione minerale per riuscire a compensare quindi in realtà non è sempre vero che abbiamo delle piante più grandi e più performanti dipende dalle condizioni al contorno che non sono poi così trascurabili e poi c'è un ultimo aspetto questo cambiamento negli aspetti che poi toccano anche il clima fa sì che ad esempio cambia la stagione di fioritura cambia la fruttificazione ma alla lunga alcune piante compensano bene per altre uno stress perché comunque sono dopate passatemi il termine alcune che sono molto efficienti nella captazione di anidride carbonica funzionano bene ci sono degli alberi delle piante erbace degli arbusti che funzionano bene su questo altre possono andare in stress e poi guardandola su una scala un po' più larga cambiano i piani altitudinali quindi ad esempio quella che prima era una vegetazione che noi trovavamo entro una certa fascia altitudinale adesso sta iniziando a spostarsi più su perché non è più nella sua zona di comfort sta andando verso temperature e condizioni che non esistono più dove prima stava e quindi si sposta dove riesce a competere se no non compete e sparisce questo guardate che succederà un po' anche per tante delle piante orticole che noi stiamo usando adesso per i nostri test e finché si va in cultura protetta in condizioni controllate culturali sembra che non ce ne accorgiamo ma in realtà stiamo producendo CO2 per rinfrescare o per riscaldare o per pompare acqua eccetera quindi comunque entriamo in quel far saltare gli equilibri del ciclo oppure cerchiamo delle specie che in qualche maniera sono più resistenti a queste condizioni e ve la faccio breve in questo momento c'è tutto un filone di ricerca che si occupa di questo e infatti si parla di nuovo di varietà antiche che non è solo una marcord di ritorno al passato ma è andare a cercare quelle specie quelle varietà che sono più resistenti a certe condizioni che sopportano meglio gli squilibri o per contro andare a selezionare alcune che invece sono particolarmente resistenti agli stress per in qualche maniera compensare quella che è la richiesta perché l'abbiamo visto cresciamo dal 1990 al 2100 in quel grafico che ci ha fatto vedere Marco abbiamo una previsione di una popolazione mondiale che era doppia e questa popolazione mangia quindi ci sono anche questi aspetti con questo io ho concluso mi auguro di avervi dato qualche altro input che vi faccia riflettere sui vostri orti e vi ringrazio grazie ma tu hai detto una cosa adesso Enrica che l'ho colta non l'hai detta proprio come l'hai detta l'altra volta mi sembra non è che piantando tante piante compensiamo la CO2 perché le piante mangiano CO2 perché le piante poi producono umidità sotto certe condizioni si c'è anche questo aspetto cioè c'è un limite entro cui noi compensiamo poi però le piante le abbiamo visto fanno nella loro traspirazione emettono vapore d'acqua che è che dà un contributo importante all'effetto Serra anche lui questo sempre per non demonizzare l'effetto Serra perché comunque grazie a quello la terra si rinfresca ad esempio nell'architettura in edilizia perché adesso facciamo tutti questi tetti verdi facciate verdi eccetera perché c'è un rafrescamento perché questa evaporazione determina un cambio di temperatura ok però da qualche parte questo vapore d'acqua va a finire e siamo al gatto che si morde la coda quindi ecco da una parte è bello piantare piante dall'altra occhio perché anche lì bisogna evitare gli estremismi non è vero che in valore assoluto basta piantare piante bisogna tentare di lavorare per ridurre il problema alla fonte perché ne parlavo con questo chiudo con colleghi di ingegneria che dicevano sì prima si citavano le marmite catalitiche va bene siamo partiti dal motore usavamo i combustibili al piombo adesso abbiamo le marmite catalitiche abbiamo nuovi inquinanti da quelle combustioni poi arriveremo all'idrogeno e poi e poi non si potrà ridurre oltre cioè a un certo punto anche lì ci fermeremo quindi ecco forse bisogna proprio lavorare su stili di vita che pensi in un modello diverso qui la tiro molto alta che è una mediazione tra dobbiamo conviverci e possiamo fare qualcosa però ecco forse in un sistema più largo ci sono dei pensieri da fare ecco e chi è nelle scuole ha il primo compito di non partire semplicemente dicendo mettiamo le piante che fa bene al pianeta ecco sì ma no non le vanno messe con cognizione di causa perché sennò possiamo avere tanti altri effetti è molto interessante come ci lasciamo perché invece che con soluzioni con domande e che fa sempre bene per me perché è così lasciarsi aperti che è stimolante credo per tutti per voi insegnanti poi che avete a che fare con i ragazzini poi guidarli nel 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 dipanarsi di un pensiero critico da per considerare tutti i pezzetti certamente non è facile però magari giusto siamo anche un gruppetto e si possono anche condividere poi no eventuali percorsi di eh di accompagnamento al al su questi su questi temi bene allora ci lasciamo e perché così siamo perfetti 18.01 e abbiamo la registrazione se abbiamo qualche domanda poi la possiamo mettere nel nostro forum e al prossimo incontro abbiamo abbiamo uno in in agenda per il 22 di marzo andando un po' avanti su questo tema e poi insomma e ci sentiamo ancora ma è con tutte le cose grazie moltissime a Marco Capello che se vorrà potrà darci anche qualche altro pezzetto della sua scienza in futuro e mettete mettete i dati delle vostre delle vostre rilevazioni anche se non sono ancora completi quelli che avete iniziamo a sgranchirci nell'uso di questi strumenti che abbiamo a disposizione così vi aiutiamo anche in corso d'opera è un suggerimento grazie ciao grazie grazie a tutti ciao a tutti arrivederci a tutti grazie Marco grazie Marco grazie Enrica ciao ciao ciao